Questi sono comportamenti limite che normalmente si sviluppano già nella preadolescenza. Deve far sicuramente preoccupare questo genere di comportamento perché sono persone che al di là del postare, come dire, l'atto estremo su internet, hanno una tendenza proprio a vivere situazioni limite e quindi in genere è correlato all'uso di alcol, di sostanze, la ricerca continua di sensazioni quasi a confermare la loro onnipotenza. Questo è un problema perché fa, come dire, fa da specchio ad altri perché rende pubblico questo genere di vita ma non solo, mette a repentaglio anche la vita di chi sta a loro intorno.